buongiorno oggi venerdì 24 gennaio 2020 inizia un ciclo di venere che stupirà tutti inaugurando un weekend all'insegna della romanticità vediamo come ariete inizia un periodo di passioni veramente notevole quindi concentratevi sull'amore sulle passioni senza chiedervi troppo del domani toro il vostro cielo regolato dal vostro astro oggi vi fa più dolci più disponibili e soprattutto romantici anche un po melanconici progettate bene il futuro sul partner perché non siete più disposti a ripetere gli errori del passato in amore gemelli oggi la giornata è decisamente più mite meno contrasti zodiacali e maggiore fluidità utilizzate il weekend per fare quello che meglio vi riesce ridere e folleggiare con gli amici cancro il vostro cielo oggi promette una bella ripresa visto che gli altri giorni non sono stati granché questo fine settimana inizia all'insegna del romanticismo e perché no anche con un bel weekend assieme al vostro amore leone il cielo di oggi vi darà modo di progettare con il partner qualche romanticità in più più morbidi e meno tesi dei giorni appena trascorsi avrete modo di dedicarvi a voi stessi e anche alla casa vergine il cielo di oggi si prospetta ottimo per quello che riguarda un'attrazione che potrebbe sfociare in un nuovo sentimento se non siete soddisfatti della dinamica affettiva appena trascorsa quella nuova prospetta decisamente orizzonti molto più fulgidi bilancia il cielo di oggi sta aprendo delle nuove prospettive una proposta che arriva da lontano forse vi obbligherà a fare una valigia quanto prima ma sicuramente sarete contenti e gratificati di ciò che vi verrà proposto scorpione il cielo di oggi è sempre più romantico per voi avete ricevuto dei sì il che vi fa stare meglio e più in armonia con tutti siete in vena di festeggiare una nottata folle è quello che si prospetta ed è quanto di meglio il vostro cielo preveda sagittario il cielo di oggi vi obbliga a riposare un po avete dato molto questo fine questa settimana il fine settimana dedicato a voi stessi alla famiglia agli effetti più cari capricorno una prospettiva maggiore di un più ampio respiro lavorativo finalmente sembra essere concreta avete meno ostacoli e meno impedimenti quindi sfruttate bene la prospettiva degli astri e progettate sempre più raffinatamente il vostro futuro acquario il cielo di oggi si spetta con una buona notizia a livello economico potreste incassare dei soldi che aspettavate da tempo semplicemente ricevere una nuova proposta che allargerà decisamente le vedute delle vostre finanze è un periodo molto fortunato venere vi ricordo che oltre a farvi folleggiare in amore è anche il pianeta della piccola fortuna pesci più romantici che mai inaugurato un weekend d'oro potreste finalmente ritrovarvi a cena con il vostro partner e avere quel momento romantico che da tempo desideravate passate una notte con un'atmosfera decisamente romantica e ammantata di suggestioni quasi oniriche grazie per avermi ascoltato buona giornata Grazie a tutti